Lo Sporting Bellinzago centra la seconda vittoria consecutiva, la seconda giornata nelle mure amiche, 2-0 al San Colomano. Andiamo a vedere quelli che sono però i gol al 36esimo, su calcio di punizione Ciana Pennella e Tos di testa in sacca per la rete dell'1-0. Nella ripresa arriva il raddoppio al nono, Mazzini sfugge un'azione fotocopia, quella di domenica scorsa, mette dentro e fuori nel tentativo di liberare Fulmini al proprio portiere per un autogol davvero strano. Nel finale al 44esimo, Ioance da 40 metri prova una conclusione, la tocca in maniera Goffa Gilardi che mette in angolo, successivamente sullo stesso calcio d'angolo Gerardi si riscata compiendo un vero e proprio miracolo, deviando sull'ermontante il tocco sottomisura di Elosi. Con questa azione finisce qua la partita, Sporting Bellinzago 2, San Colombiano 0.